Salve ragazzi e bentornati in una nuova puntata di FIFA 18 Oggi un altro Road to Amsic 89, ho completato tante sfide Siamo quasi al completo 12 però, già 3 sono pronte per essere completate Oggi andremo a completare queste sfide e poi infine a spacchettare C'è un pacchetto mega che ci aspetta, quello della Juventus, pronto E andremo a vedere se saremo fortunati o meno Quindi si comincia col Chievo Il Chievo appunto abbiamo come ATT di sinistra Roberto Inglese Poi ATT di destra Sergio Pellissier Walter Birsa Castro A destra Etemai CDC Radovanovic Poi come TS ho messo questo S, non fa niente, Garitano DC Gamberini Bojan Cesar Dainelli che appunto è un DC ma va bene così E poi Sorrentino come portiere Allora se è completa comunichiamola e prendiamoci i nostri premi Il nostro premio anzi Ok perfetto Adesso prima di completare la Juventus andiamo a completare il Genoa Quindi abbiamo come ATT la Padula, come ATS ho messo Zucanovic ATT abbiamo Darkulazzovic E D ho messo Bertolacci che non fa diciamo tanta intesa però alla fine come vedete 95 va bene Luca Rigoni Poi CEC abbiamo Miguel Veloso E.S. Laxalt Poi infine come DC abbiamo Gentiletti Altro DC Rossettini E poi infine Spolli, Nicola Spolli E portiere appunto Mattia Perinna Comunichiamo questa rosa Perfetto E andiamo adesso a completare quella della Juve La Juventus è stata un po' complicata perché ho dovuto fare mi sa qualche cambio a ruolo esatto Anzi no, forse no, no 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 Non ho fatto nessun cambio a ruolo Però Barzagli era della mia rosa la stessa Douglas Costa Quindi magari a voi non farà intesa ma potreste farla voi con le 10 partite appunto per fare la fedeltà Quindi sta a voi decidere Mi sa che ci vuole comunque Partiamo con Mandzukic Quadrato Come CDC abbiamo Ewedes Poi abbiamo Bernardeschi come COC Che tira come altro CDC A.S. e O.S. abbiamo Douglas Costa Desciglio come ETS Barzagli Benatia come difensore centrale Licksteiner E infine il portiere Scesni Quindi state attenti alla fedeltà Così funziona Però magari avrete bisogno di 2-3 giocatori del vostro club E quindi della vostra rosa Per fare fedeltà E con questo comunichiamo E andiamo a spacchettare Sperando di trovare qualcuno di buono Andiamo a vedere quante sfide mancano Ne mancano soltanto 5 Quindi cercheremo di completarle nel corso della storia E cercheremo di completarle Nel più breve tempo possibile Crediti permettendo Quindi abbiamo 5 pacchetti Di cui qualcuno appunto bronzo Andiamo subito a scartare il bronzo Che non ci interessa Invio Sì 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 Ok perfetto Meno 1 Ok E il bronzo anche Che non ci interessa Poi a meno che troviamo infatti Venti ai contratti E si comincia a far sul serio Quindi Andiamo di pacchetto giocatori oro rari Piccolo Walk out Subito walk out ragazzi Mai mai è successo Al primo tentativo Chi è? Cc? Manchester City Via le ghiature Buono dai 1.83 Non so se valga molto Però È un buon giocatore Questo a FIFA 14 aveva 1.89 Era fortissimo Vediamo quanto vale Dai 4.000 Non è proprio da buttare Perfetto La prima non è andata Male 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 Ok Andiamo col secondo pacchetto Pacchetto oro rari Forza Altro walk out Attenzione Altro walk out Non è della settimana Italiano Cdc Chi è? Roma Materozza Due walk out Però De Rossi Non ci serve Pensavo fosse più forte Ruiz Qualche gettone Abbiamo lo sub center Ok Andiamo di pacchetto mega Come ultimo pacchetto Il più grande pacchetto disponibile Con 30 Sì 30 oggetti 18 orari Speriamo di trovare qualcuno Dai 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 Non è neanche walk out Il pacchetto mega Quello più forte C'è andata malissimo Proprio Chi è? Giovinco Grande Giovinco Fortissimo Vai È andata Così e così Questo Ah però abbiamo Daga scosta Felipe Anderson Vallejo Va bene ragazzi È andata un po' maluccio Anche questa volta Siamo un po' sfortunati Se il video vi è piaciuto Vi invito a lasciare un mi piace O iscrivervi al mio canale Per adesso è tutto Vi aspetto con il prossimo appuntamento Qui sul mio canale Ciao da Zatacloud Ciao da Zatacloud Ciao da Zatacloud